e bella a tutti voi ragazzi e ragazzi nel vostro caro mastro king e benvenuti in questo nuovissimo video come potete vedere siamo qui su minecraft stone block come vedete questa costruzione è il nostro reattore che di vari pezzi ho ottenuto un'altra volta offline qui ci ho messo l'uranio in questa cesta che ha messo dentro che ha riempito questa zona qui qui parla della temperatura quindi questa zona qui esterna sta a 189 gradi mentre quella interna sta a 197 e infine questo in esterno parla della dell'energia caricata e quindi diciamo per il momento il fuere attivi del 100% e quindi questo è il nostro reattore ora devo anche capire perché in questo caso vedete devo capire in che modo posso prendere energia però per il momento direi che stiamo a posto così allora come sospettavo il range di queste grid qua molto molto è corto però non mi aspettavo cosa che fosse così corto quindi prossimamente vedrò il sistema per andare avanti ora direi di vedere questo al momento direi che non possiamo farla come se fosse diciamo finire questa pagina qui siamo il solar array che avevamo dare un'occhiata l'altra volta ma non ricordo se possono essere fatti usare un'occhiata l'opera che non c'è nulla praticamente ok l'iterite solar cell ok Ok, questi li devo andare a fare sicuramente Ok, ne posso fare 15 Ok, quello è quello base Ah, ok, quindi questo è quello là Che posso fare Interconnect Tu come ti fai? E non li posso fare Perfetto Ok, concrita Eh, sì, ok, mi manca la concrita La conc... no, non voglio andare in recesta La concrita Che ovviamente non posso andare a fare Ok, ok, black concrita Sì Ok, concrita Ah, ok, non ci vuole tanto Però devo comunque andare a prendere la gravel Ok, c'è il black quartz Non posso fare Ok, ok, non posso fare il nero Allora, allora, allora Devo capire Ok, come ti pu... Dai, artificial dai In che sac non la posso fare Immaginavo Semplicemente un nuovo nero Dei fiori Ok, ok O nel pulverare Sarebbe ne da di più Ok, la lana nera Sì Che non... Che non... Ovviamente non posso andare a fare Ora Dai, ma mixer Tu come ti fai? Ti posso fare? Ok Ok Ok, me ne faccio giusto un paio per... Perché non si sa mai Con il gear Ok Che non posso andare a fare Perché Non ho abbastanza materiale Ok Ora Sempre non andare a quel... No, non ho quella normale Ma bensì A quell'artificiale Ok Cosa mi manca? Il green Ok All cactus Non so se ho il cactus No, infatti Ok Questo nel... Penso nel... Mettendolo poi nel... Pulverizer Se è quella energetica Parte le varie cose Generatore Generatore No, squisero mi serve No, quello è sempre un generatore Pulverizer Mi dà La lana Quindi In quale pulverizer? Perché comunque sembrerebbe Che ne stanno parecchie No, tu sei quello che Prende l'energia No, tu sei il crusher Da te Tanto a te di Mi svuoto Esatto Per fortuna Quindi diciamo che Da una parte Starei A posto A te non ti devo Non ti devo cuocere Però ho ottenuto il Il verde Ok Quindi finalmente posso fare Il gray Il dye mixer Che momentaneamente Andrei A piazzare Un secondo Qui sopra E tutto questo Solo per avere Una dye Delle dye Nere Ok La item Sì Ok Quindi dando quello Per Ok Così si graffta Quindi praticamente Lo fa lui Quindi Per fare Il nero Ok Da qui Sì Ma io voglio capire In che modo Cosa Nel senso Cosa Devo inserire Qui Dai Non ne ho Forse Ok No Devo trovare Il modo Per craftarle Ok Ok Nell'alloy smerter Carbone E Ah cavolo Manca una Cosa Ok Riggio 1 di 16 blocchi L'ho Scoperto Ora Quindi a Quanto pare Ho la possibilità Di Di farlo Ah così si fa Sì Ogni tanto Fa finire Che Ok Quindi Ti posso Piazzare Ok Se carico E Devo Inserire Una qualunque Slime Bolo O uovo E Qual Powler O Tiny Call Pulverizer Tiny Charcoal Ok Quindi posso Farlo pure Con la Charcoal Allora Non è Colla No Lo faccio Con il Colla Normale Che Comunque Ne ho A Sufficienza Sempre Se Il Gioco Decide Di Andare Ok Ora Il Carbone Quindi Non mi Serve Mi Prendo giusto Un paio Di stack Di Slime Ball E Piazzo Uno No Ah Non ne ho Nessuno Di due Perfetto Non volevo Entrarle qua Quindi Voglio Semplicemente Ah Ok Si A parte Il lag Che Non Mi fa Mangiare Ok Sembrerebbe Che Ci Proprio Fatta Quindi Per Fare Te Ah Nel Classico Pulverizer Quindi Quello Che Ho Sempre Conosciuto E Nel Mentre Qua Si Mette A Fare Anche Se Ci Mette Poco Tempo Direi Intanto Ne Approfitto Per Ricaricare Un po La Ok Mi Devo Il Il Sulfur E Approfitto Anche Per Mangiare Ok Intanto Vedo Il Sulfur Cosa Posso Fare Ok Gunpowder Che Non Mi Serve Sì Le cose Il Capacitor Bank Sì Che Mette Nero Limita La Gunpowder Ok A Parte Questo Non Penso Che Posso Fare Ok 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 Quindi Diciamo Che È Abbastanza Utile Come Cosa Quindi Diciamo Che Mi Aspettavo Fosse Meno Udile Però Invece Ok Non Devo Andare Di Qua Perché Andare Troppo Oltre Bensì Devo Andare Di Qua Colla E Ok Quindi Starei A Posto Ok Quindi Eppure Abbastanza Veloce Ma Io Sì Quindi Devo Ammettere Che Mi Andara Bene Ora Devo Andare A Prendere Pure La Gravel Tanto Diciamo Che Ne Ho Abbastanza Ok Ok E Finalmente Posso Fare La Concrita Ok Diciamo Che Per il Un momento Uno stack Solo Sembrerebbe Bastare Ok Questo è sempre Il livello Uno Ok Indifferente Quello Ok Quelli sono Quelli Base Ok Si Concrete Powder Mi serve Sicuro Ok E L'ho Fatto No Non volevo Fare Il blocco Lì Quindi Devo Andare Sempre Se Riesco No Ve lo Fare De Ok Connector Che Si Fanno In Quest'altro Modo Ok Sempre Così E In Questo Modo Posso Fare Dei Interconnecti Ora Finalmente Posso Andare Da L'interconnect Posso Se Lo Vedo Posso Fare Il Primo Che Quello Di Leader Ok Mi Manca La Leader Ora Devo Capire Tu Come Ti Fai Ok Diamanti E Le Dai Mi Mancano E Quindi Devo Vedere Pure In che Modo Devo Fare Ok Quello L'artigiale Si fa Lì Dentro Ok La Stessa Cosa Con Le Tu Come Ti Fai Ok Mette Nel So 1000 Mettendo Qualunque Tipo Di Fiore Perfetto Anche Lo Si Ok Questo Il So 1000 Dovrei Averlo A qualche Parte Il So 1000 No Ora Devo Comunque Tanto Li prendo Tutti I fiori Ora Ora Però Devo Capire Ah Ok Ci ho Fatto Le Ok Ne ho Una Sola Da Te Posso Farti Ritornare In qualche Modo Fiore Sembrerebbe Di No No Non Credo Si possa Fattornare Fiore No Ok Ora Invece Questa Altra Parte Forse Perché I Fiori Danno Varie Le cose No Regiment Table No Tu ancora Non Si è Fatto Tu Sei Un altro Crusher Quindi No Non mi Servirai Metallurgic Infuser Che Non Mi Serve Io Ricordo Da qualche Parte Qui Un So Mil Dovrei Averlo Ok Che Che Comunque Rimane Sempre Quella Organica Che Va Fatelo Ok Sicuro Un Qualunque Fiore O Erba O Cosa Pure Le foglie Va Bene Ora Voglio capire Cosa Che Mi Manca Da qui No Lo smerter Ce l'ho Ok Quindi Mi Manca Quello Centrale Manca Questo E Queste Ok Tu Sei Induction Induction Ok In teoria Dovrei Questo Dovrei Farlo No Sempre No Lo smelter Ok Copper Gear No Quelli ce li ho Ce li ho Ok Ok Sembrerebbe Che mi manca Solo quello Centrale Esatto Il machine Frame Comunque Me ne fa Vado a fare Un paio Che Sono Sempre Utili Ok Tu Ne faccio Un paio Di te Ok Ora dovrei Avere Tutto Lo che mi serve Per fare Questo Esattamente Puoi Devo mettere Qui dentro Devo mettere Questo Un Ok Non so se Non ho Assolutamente Nulla Per fare Lo fare Sempre Organic Ok Il simple Soul meal Che potevo Fare Subito Sì Il simple Sembrerebbe Non è Ergia Sì Perché Quello Serve Trasferire Rob Ok Esplosa La roba Sotto Cosa Ci stava Là sotto Non ne ho Idea Poi Mi riguarderò Il Video No Tu Ti fai Ah ok Ok Quindi Tu parti Ok Quindi Queste cose Possono essere Sfruttate E ora Vengo di qua Perché In questo Modo Vengo A prendere Un po' Di Anche perché Vengono Verranno Sfruttate Parecchio Ah ok Qui sotto Mi ricordo Ci stava Il coso Il Ah ok Quindi Sembrerebbe Che Non basti Come Quantità E quindi Per il momento Vi Posso Ok Intanto Mi faccio pure Qualche Fiore Tanto Non Non Guasta Come Cosa Uno Due E tre Tanto A te Ti poso E pure A te Ora Finalmente Quante Me ne servono 12 Con la E sono Veramente Veramente Tante Quindi La cosa Migliore Posso fare Per il momento E aspettare Aspettare No Non ve lo fare Questo Allora Devo fare Il Sao Non Questo Sao Mil Anche 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 perché Non ho Il pezzo Sopra Però Lo posso Fare Così Intanto Ne approfitto Per Vedere Questo Come Verrà Diciamo Sfruttato Ok No Ok Non dire Che ti Tengo Qua Ok Devo fare Comunque Un altro Paio Di Questi Ok Così In questo Modo Ne posso Fare Altri Due E Si Riesce Così A Massimizzare La Produzione Di Di Queste Così Mettendoli Qui All'interno Del So Mil Ho La Possibilità Di Per fortuna Me ne Da Due Quindi Ora Stare A Quattro Così In questo Modo Ne Massimizzò La Produzione Di Queste Ora Una volta Fatta Questa Finalmente Potrei Andare Avanti Quindi Quindi Ok Ok Giusto Quattro Gli altri Due Non Credo Io non ne ho, quindi l'unica cosa che posso fare è vedere se qualcosa mi appare a quest'altra parte Darsi che... Sì, infatti Ora Verrano fatte 4 però sicuramente dopo mi dovrebbero servire, mi dovranno servire altre Ok Ora Con questo dovrei essere a posto Ah no, non è vero perché ho fatto solo queste Quindi ne dovrò fare ancora Allora direi che per il momento dovremmo stare a posto così Intanto continuo a produrre Spero il video vi sia piaciuto e così mi raccomando lasciate un mi piace di sicuramente qui su youtube Ciao ciao a tutti Ciao